Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPL per lavori di miglioramento della sicurezza si segnalano un chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni, code in uscita alla strassigna provenendo da Firenze, code per lavori tra Pontedera Ovest Ponsacco e la programmazione per Pisa in direzione Livorno, verso Firenze rallentamenti per lavori tra Pisa Loporto e Pisa Nord-Est e code a tratti tra la strassigna e Firenze Scandicci, in A1 verso Roma rallentamenti tra Sasso Marconi e il Bivio con la variante di Vali con la Quercia e code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino, in A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, in A12 code per lavori tra Carrara e Persidia verso Rosignano ed è tutto, buon viaggio!